Per il secondo anno consecutivo l'aeroporto Leonardo da Vinci è il migliore d'Europa per la qualità dei servizi. A dirlo sono i passeggeri che secondo l'Airport Council International, l'associazione che misura in modo indipendente il gradimento di oltre 300 scali al mondo, hanno assegnato anche per il 2018 il premio Airport Service Quality Award. I viaggiatori hanno apprezzato i varchi elettronici per la verifica automatica dei passaporti, il comfort e la pulizia dei terminal, la chiarezza delle informazioni e la cortesia del personale. Particolarmente gradite è la rapidità dei controlli di sicurezza e i parcheggi. Fiumicino è stato accostato agli scali internazionali di Singapore, Pechino, Toronto e Mosca anche per la puntualità dei voli. Le rilevazioni effettuate lo scorso febbraio hanno evidenziato che più dell'80% delle partenze sono avvenute in orario. Ottime anche le performance dell'area Bagagli Disguidati, che non arrivano in percentuale ad uno ogni mille. Siamo soddisfatti ed orgogliosi di questo nuovo primato, ha dichiarato l'amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci. È un ottimo esempio di come si possono rilanciare e valorizzare gli asset infrastrutturali strategici per la competitività del paese. Non consideriamo questo riconoscimento come un traguardo, ha commentato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo De Carolis, ma come uno stimolo a fare sempre di più e meglio. Congratulazioni arrivano dal sindaco di Fiumicino, Montino, che ha dichiarato «Da parte nostra non mancherà il contributo per continuare a lavorare sull'attuale sedime, sfruttandone tutte le potenzialità ancora inespresse, così da mantenere gli standard di eccellenza anche per i prossimi anni».